Salve a tutti amici, in questo video vediamo come ottenere Cerulege e Arma Rouge rispettivamente su Pokémon Violetto e Scarlato, quindi a seconda della versione otterrete l'uno o l'altro. Andiamo a Mesapoli dove c'è l'Accademia e a destra vedete questo quadratino qui, ecco lì c'è uno spawn sicuro di Charcadette. Dobbiamo catturare Charcadette come prima cosa, quindi andiamo qui, lo catturiamo e lo mettiamo in squadra. Eccolo qua, perfetto, a questo punto dobbiamo andare a Picadia, quindi da Mesapoli andiamo a Nord e la troviamo qui, eccola qui, Picadia. Andiamo a Picadia orientale e cerchiamo il personaggio che ci vuole tentare con un affare proprio qui, poco avanti, sulla destra, in questa piazzetta. Ok, ora se avete Pokémon Scarlato vi chiederà dei pezzi di Bronzor, altrimenti se avete Pokémon Violetto vi chiederà pezzi di Sinistea. Allora per Sinistea se ne trovano tantissimi intorno alla Sbrasa, ho fatto anche un video su come cercare il reale Sinistea e troverete pieni di cocci, quindi vi basta affrontarli. Se invece cercate i Bronzor e siete sullo Scarlato vi basta andare dove ci sono le rovine, ci sono tantissimi Bronzor, perlomeno io ne trovo continuamente, quindi rovine che si trovano un po' in giro, anche sempre vicino alla Sbrasa, mi sembra ad est della Sbrasa ci sono delle rovine, lo vedete. Comunque una volta dati questi pezzi otterrete l'armatura che è diversa a seconda della versione e quella appunto vi trasformerà il vostro cercadette in Armarugio o in Ceruleggio. Quindi andiamo ad utilizzarla ed ecco qua che io essendo in Pokémon Violetto ottengo, eccolo qui, Ceruleggio. E ci siamo, spero di essere stato utile, a presto. Grazie.